Il sistema controllo abbaglianti riduce lo stress derivante dalla guida nelle ore notturne, commutando automaticamente i fari tra abbaglianti e anabbaglianti. Il sistema si attiva quando il veicolo procede a una velocità pari o superiore ai 30 km orari, l'interruttore faria in posizione auto e i fari abbaglianti sono selezionati. Il sistema utilizza la telecamera controllo abbaglianti per rilevare i veicoli davanti o che procedono in direzione opposta. I fari commutano automaticamente a fari anabbaglianti e poi di nuovo ad abbaglianti quando non vengono più rilevati i veicoli. Si può tuttavia commutare tra abbaglianti e anabbaglianti manualmente secondo necessità. Gli anabbaglianti rimangono accesi quando si effettua una curva, quando si guida in aree urbane molto illuminate o quando il veicolo procede a una velocità inferiore ai 20 km orari. Un indicatore luminoso verde si accende quando il sistema è attivo e in funzione. Una spia ambra si accende quando il parabrezza è appannato o ostruito. Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di uso e manutenzione.